Ragazzi, chi non ha visto il video del presidente Meloni nel quale risponde a chi l'accusa che la Rai sia diventata Telemeloni? E mi trovo perfettamente d'accordo con l'ironia del presidente perché nella Rai c'è tutto tranne che Telemeloni. Voglio farvi una domanda a voi, ma vi è mai capitato dei guardetti G1? Personalmente più lo guardo e più mi sembra che non sia cambiato niente all'interno della Rai, anzi. Vedo sempre la solita sponsorizzazione dei soliti personaggi, dei soliti artisti ed il solito indottrinamento con la base di un politicamente corretto che ormai dà la nausea. Vogliamo poi parlare di Rai 3? No davvero, vogliamo parlare di Rai 3? Praticamente una propaganda globalista internazionalista di sinistra H24. Dire 3 non parlo di programmi, non dico niente, dico solo che quando guardo il TG3, sembra che a Roma vada tutto bene, un'eterna passerella del sindaco Gualtieri. Quindi, cari amici ben pensanti, ma di che state a parlare? Ora, non dico che dovremmo a mettere Meloni su a Rai, però, dato che la paghiamo noi cittadini, perlomeno un po' di par condicio. Poi, se se vuolemo pià per culo e di che esiste Telemeloni, piamose per culo. Senti un po', ma te è piaciuto il video? Te sei iscritta al canale, sì o no? Oppure sei in comunista?